Voglio dire Napoli nella completezza della sua realtà, cioè senza voler chiudere gli occhi di fronte alla situazione di difficoltà che la città sta vivendo, ma non limitarci a dire che Napoli, la Campania o il Sud è solo male, è solo spazzatura, è solo camorra, è solo violenza, c'è anche questo, ma c'è una Napoli diversa che voglio raccontare, che voglio rappresentare. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.